Noi in passato avevamo espresso come opposizione consigliare dei timori sull'apertura di una struttura di questo genere, interpretando un po' le preoccupazioni che ci sono sia negli operatori dell'altro centro commerciale, sia di quelli del centro storico, di quello urbano. La nostra posizione, la mia e quella del mio gruppo è nota, noi eravamo d'accordo per fare in quella zona dei negozi, delle strutture che dovessero essere al servizio della nuova zona, Pagge, quindi degli abitanti che vanno lì, bene il cinema, bene altro tipo di strutture, ma una struttura di questo tipo sicuramente noi non l'avremmo fatta. Un altro semestre diceva se chiude l'arancio cosa farete della struttura? Innanzitutto l'area al comparto C1 non è un comparto solo commerciale, in senso stretto. Sì, infatti poi cercheremo di… ecco abbiamo un po' accennato… Quindi noi dobbiamo cercare di valorizzare tutti gli aspetti. Non è detto a mio avviso che… tutt'altro, anzi io sono convinto che il centro commerciale dell'Arancia non chiuderà, chiaramente ci sarà una fase di assestamento, noi dobbiamo cogliere le opportunità con questa struttura, che è una struttura importante, che è in grado di catalizzare l'attenzione del territorio e quindi portare a Tolentino, in questi spazi dei cittadini, catalizzare la loro presenza per mettere loro a disposizione dei servizi di qualità, servizi che siano all'altezza dei nostri tempi. Io penso che per uscire da questa crisi bisogna avere delle proposte, avere dei progetti, prendere i tempi giusti per realizzarli, consentire che si stabilizzino e essere sempre pronto in buon accambiamento e operare quotidianamente, senza né angosce né ansia da prestazione.